Signori, sto qui con la copertina Runapal e mi sono visto i sorteggi e vi devo dire oggi, quest'anno, niente urne, niente cose stupide, reazione semplicemente ai sorteggi io partirei dalle altre due italiane, la Lazio male la Lazio male, ha beccato il Bayern, una squadra che mai come ora è in forma ma in generale, ragazzi, il Bayern è difficile da affrontare Napoli e l'Inter si sono spartite le spagnole l'Inter ha beccato l'Atletico e l'Inter, secondo me, passa 100-100 e noi, ragazzi, il Barcellona ora, tra le teste di serie che potevamo beccare il Barcellona, tra le possibili teste di serie è veramente andata bene, ragazzi è andata quasi di culo però non è neanche la migliore opzione che ti poteva capitare perché tra la Real Sociedad, non lo so, magari il Borussia e qualcun altro è vero pure che ti poteva capitare il Manchester City ti poteva capitare l'Arsenal e noi le inglesi le soffriamo pesantemente comunque l'andata è al Maradona, il ritorno è a Barcellona questo è un bel problema se il Napoli riesce a eliminare il Barcellona, il Napoli di quest'anno che non è il Napoli dell'anno scorso e questo ce lo dobbiamo mettere in testa il Napoli non tornerà mai quello dell'anno scorso, secondo me se il Napoli riesce a superare questo turno comunque non è un'impresa da sottovalutare perché non è facile detto ciò, per me non è andata male ma non è andata neanche benissimo non sei stato sculato e ci sta, devi mettere in conto che non puoi essere sempre sculato come l'anno scorso che becchi il Francoforte di turno viene fai 4, tutti a casa e passi gli ottavi no, gli ottavi sono comunque tosti devi mettere in conto che ti capita una squadra forte e ora, ora come ora il Barcellona non è il Barcellona fortissimo che ricordiamo tutti non è in ultra forma però dobbiamo vedere come sarà quel Barcellona che affronteremo a febbraio, gennaio quando sarà quindi è da vedere è da vedere, è da vedere tra l'altro qua le date sono ancora tutte da definire le partite però ragazzi il Napoli per me ha avuto un sorteggio che non possiamo né definire fortunato né sfortunato diciamo che va bene così diciamo che va bene così cioè, se penso che potevo beccare il Manchester City o l'Atletico o addirittura vabbè, le italiane non le potevamo incontrare quindi no, l'Atletico non lo potevamo beccare se penso che potevamo beccare il City o il Dortmund o scusate, il City o, sì, il Dortmund io sono felice però se penso che potevo beccare anche la Real Sociedad o qualcun altro ecco, un po' meno detto ciò detto ciò Nucce deve piangere sul latte versato quello che è per me il Napoli deve andare contro il Barcellona sia a Maradona che al Camp Nou no, non è più il Camp Nou stanno giocando in uno stadio provvisorio però insomma dove sia sia in casa del Barça a vincere e non c'è via di mezzo questo è niente fatemi sapere un po' la vostra per quanto riguarda Lazio e Inter per me bellissimo la sfida con l'Atletico ci sarà da divertirsi con l'Inter la Lazio per me è già fuori ragazzi poi salvo miracoli io sogno di vedere tutte e tre le italiane passare come fu l'anno scorso ma per me la Lazio è già fuori detto ciò Inter e Napoli per me se la possono veramente giocare sarà divertente poi questo doppio derby che si è venuto a creare Inter e Atletico per me sono due squadre che un po' sono gemelle non so perché si scambiano giocatori ci stanno aneddoti tra di loro sì anche a livello storico beh sarà bello vedere l'Inter Atletico e Atletico Inter e Napoli e Barcellona ragazzi condividono Maradona condividono il Diez il Pipe de Oro quindi sarà anche una sorta di derby di Maradona perché le due grandi squadre europee in cui ha giocato Maradona sono proprio Napoli e Barcellona quindi veramente anche Napoli e Barcellona promette promette tanta roba poi noi non siamo nuovi a a queste partite contro il Barcellona perché il Napoli nell'annata di Gattuso se non sbaglio si giocò proprio un ottavo contro il Barcellona e fumo eliminati e quindi il Napoli si vuole anche vendicare magari di quell'ottavo quindi per me va bene così saranno partite interessanti dispiace per la Lazio ma le altre due per me il nostro Napoli e l'Inter se la possono tranquillamente giocare poi ancora di più l'Inter di quest'anno che è praticamente imbattibile è ingiocabile l'Inter di quest'anno per me l'Inter veramente ha buonissime possibilità noi ci vediamo alla prossima iscrivete e commentate lasciate like e ciao a tutti